Musica Oggi San Sebastiano viene festeggiato in tutta Italia. Il ruolo della Polizia Municipale negli ultimi vent'anni è cambiato drasticamente. Vent'anni fa non potevamo immaginare quello che sarebbe diventata la Polizia Municipale oggi, una presenza sul territorio costante, una presenza sul territorio qualificata. Siamo in Italia oltre 66.000. E' 66.000 che svolgono attività a garanzia dei cittadini. E parliamo di edilizia, parliamo di controllo degli alimenti, parliamo di sicurezza stradale. Diciamo che la Polizia Municipale oggi è una realtà che si qualifica sempre più. Dobbiamo investire in termini di formazione ma anche di tecnologie se vogliamo fare quel passo in avanti che tra l'altro l'Europa ci chiede di fare. Siamo perdenti nei numeri. Quando dico perdenti nei numeri mi riferisco al fatto che abbiamo una carenza di organico, ma non è soltanto Palermo. Questa sofferenza va da osta ad aggrigento. Non abbiamo un ricambio generazionale che è necessario, ormai indifferibile. Occorre fare dei nuovi innesti. Altrimenti saremmo destinati, ahimè lo dico con grande sofferenza, quasi a scomparire. E' il turnover che ci manca e che ci manca è anche un'organizzazione più unitaria della Polizia. Piuttosto che essere delle isole che fanno capo ai singoli comuni, ragionare in termini di corpo unitario, mantenendo la propria identità che è l'identità cittadina della cittadina di appartenenza. L'auspicio per l'anno nuovo è innanzitutto sempre più impegno nel territorio, un'interfaccia costante e continua con il cittadino. Noi siamo la prima interfaccia tra l'amministrazione comunale e il cittadino. E' continua quella bella sinergia e quella corrispondenza di intenti tra l'amministrazione comunale e il corpo di Polizia Municipale di Palermo. E' un'occasione per ricordare l'impegno della Polizia Municipale che nell'anno che è appena trascorso si è dimostrato assolutamente in sintonia con l'amministrazione comunale, cercando di svolgere le molteplici attività che la fanno essere continuamente oggetto di attenzione positiva ma anche di richiesta di intervento. E voglio dire in questo giorno che formo il migliore augurio alla Polizia Municipale perché possa continuare a migliorare il proprio impegno nonostante la scassezza di risorse e di uomini che sono di età media ormai molto elevata augurandomi che un giorno si possa procedere anche a un'assunzione di nuovo personale più giovane che certamente è necessario soprattutto per le funzioni più dure, quelle notturne, quelle sulla strada che sono sicuramente le più impegnative ma anche quelle più visibili da parte dei cittadini quindi voglio dire grazie al Comandante grazie alla Polizia Municipale per quello che ha fatto e ovviamente siccome faccio il Sindaco direi di fare sempre meglio il futuro.